Dopo la decisione della revoca di tutte le deleghe assessoriali, il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, ha provveduto immediatamente alla nomina dei nuovi assessori del comune di Castellabate, passando anche all'attribuzione delle deleghe. Riconfermati gli assessori Costabile Nicoletti e Elisabetta Martuscelli, con le medesime deleghe finora detenute. Per Nicoletti, lavori pubblici, governo del territorio, ciclo integrato delle acque, mentre per Martuscelli, politiche sociali, politiche giovanili, pubblica istruzione, pari opportunità. Diventano nuovi assessori Marco Di Biasi e Salvatore Marinelli, già consiglieri comunali. Il neo assessore Di Biasi avrà deleghe al demanio, al porto e al piano per gli insediamenti produttivi, mentre il neo assessore Marinelli sarà delegato alla viabilità, alla mobilità urbana, alla protezione civile e allo sport. Il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, dichiara in merito alla decisione. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa e di migliorare ulteriormente la qualità del lavoro nell'interesse della comunità, ho scelto di rinnovare la squadra di governo per renderla più coesa e in linea con gli obiettivi da perseguire nel prossimo futuro.